Diciamo che senza soluzione di continuità proseguiamo questa discussione, diciamo che la diversità è solo formale perché per il resto il comitato Europa Sinistra, diciamo che promuove questa campagna di adesione al partito della sinistra europea, ha scelto già diciamo una collaborazione stretta con Transform e quindi è per questo che abbiamo anche costruito insieme questo appuntamento. Io innanzitutto un saluto, un ringraziamento a tutti quelli che hanno accolto questo invito, che sono presenti o che ci stanno seguendo da remoto, un ringraziamento in particolare al presidente del partito della sinistra europea Heinz Birbaum che è presente. Una breve premessa per dire chi siamo e cosa ci proponiamo, fra l'altro ripetendo cose che molti di voi avete già sentito in altre occasioni, diciamo, di interlocuzione tra di noi. Europa Sinistra è un comitato che promuove adesioni individuali al partito della sinistra europea utilizzando una norma statutaria che noi consideriamo una felice intuizione per compagni e compagne come noi che sono ormai, lo dobbiamo dire, orfani di un partito nazionale che sappia rappresentare la sinistra sociale. Compagni e compagne che intendono costruire un'appartenenza, una militanza nel campo politico della sinistra, del lavoro, della salute e dell'ambiente, della salute e dell'ambiente e delle persone, dei diritti universali, della cittadinanza uguale e della pace. Nella dimensione europea superando i nazionalismi, i sovranismi, i blocchi, le alleanze militari per costruire una globalizzazione multipolare, solidale e quindi un mondo migliore. Tutti i problemi che abbiamo di fronte a noi, la guerra, la pandemia, la questione ambientale, la crisi energetica, la transizione ecologica, la digitalizzazione, le diseguaglianze, il lavoro, hanno tutti una dimensione sovranazionale ed hanno bisogno di risposte allo stesso livello. E quindi sia il governo che il conflitto sono chiamate ad esprimersi a questo livello, a livello dell'Europa. L'Europa liberista che abbiamo conosciuto, della moneta, della finanza, dell'austerità imposta ai poveri, ha già rinunciato a svolgere un ruolo propulsivo nel processo di globalizzazione, ha impoverito il suo modello sociale, riducendo proporzionalmente il suo peso geopolitico. Ma oggi, con la pandemia e con la guerra, l'Europa rischia ancora di più di divenire totalmente subalterna ai poteri e ai modelli delle oligarchie dell'Ovest e dell'Est e diventare terreno di scontro tra di loro. Ecco perché sarebbe necessaria un'altra Europa, autonoma, indipendente, coesa e neutrale rispetto alla guerra in Ucraina, in grado di esercitare con autorevolezza e credibilità un ruolo di mediazione, in grado di ripristinare la pace e garantire la sicurezza per il futuro. Un'Europa che per prima fa una scelta di disarmo, di disimpegno dalla Nato per investire su un sistema di difesa civile, di potenziamento normativo, strutturale, politico e logistico organizzativo dell'ONU, delle Nazioni Unite. L'ONU dopo la Seconda Guerra Mondiale era stato costruito proprio per vigilare di intervenire a garanzia del diritto internazionale, ma nel corso degli anni, ed in modo ancora più sbrigativo dopo la caduta del muro di Berlino, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto essere potenziato, è stato al contrario svuotato di ruolo, di energie e risorse. È stato oggetto persino di una campagna di declassamento del suo prestigio internazionale. Nelle guerre che si sono succedute in questi ultimi decenni è mancato in tutta evidenza proprio l'ONU, un'autorità super partes, l'unica in grado di dirimere le controversie internazionali nel rispetto del diritto internazionale. L'indebolimento dell'ONU è stato speculare ai ricurgiti di nazionalismi e populismi con un carico di razzismo e di xenofobia. Certo, adesso siamo veramente nei guai, ma con le armi si fa la guerra, non la pace. Più armi per continuare la guerra, più armi per vincere la guerra, ma la pace è un'altra cosa. Ed io sto con l'Ampi. La polemica con l'Ampi, oltre che vergognosa, è disvelatrice di quanto abbia camminato la perdita di memoria antifascista in settori ampi del nostro mondo politico e giornalistico, di quanto sia superficiale e quasi caricaturale la conoscenza dell'Ampi, come se fosse un'organizzazione paramilitare di partigiani in servizio permanente con la mappa dei depositi delle armi pronte all'uso e che abbia colpevolmente abbandonato la sua vocazione combattente man mano che sono morti i veri partigiani di allora e sono subentrati i politici di seconda generazione, di seconda fila. Quando l'Ampi non è mai stata così. La sua vocazione da quando è nata, dopo la liberazione, è sempre stata quella del mai più. Mai più fascismi e mai più lotta armata. Sono stati loro, i partigiani, che hanno dato alla Costituzione l'impronta della prevenzione contro il fascismo e non della repressione. E nel corso degli anni, fino ai giorni nostri, hanno operato per la memoria e per l'educazione alla democrazia, al pacifismo e alla non violenza, più che per l'esaltazione della resistenza armata. E poi non si può neanche banalizzare l'opzione di una resistenza non violenta verso l'oppressore. Gandhi e il gandismo hanno operato per la liberazione del loro paese, molto più di quanto possa aver fatto la guerriglia indiana. Il punto oggi è che non esiste una trattativa di pace. Ed il tavolo tra i belligeranti è stato inconcludente per l'assenza di un moderatore, di un mediatore autorevole e credibile. Questo, e non l'esercito europeo, sarebbe dovuto essere il ruolo dell'Europa. Vocazione pacifista, capacità di accoglienza e cooperazione, inclusività, integrazione socio-economica, protezione civile, la sicurezza si garantisce con nuove norme e regole di diritto internazionale che frenino l'uso e l'abuso capitalistico della potenza di calcolo e della tecnologia digitale, che limitino la proprietà e l'uso unilaterale degli algoritmi e delle banche dati, che sottranga al mercato settori e beni, acqua, energia, sanità, salute pubblica, previdenza, assistenza alla persona, scuole, formazione e ricerca, considerandoli settori pubblici no profit, dove tutta la catena di valore è usufruita dal cittadino e dalla comunità. La sicurezza si raggiunge con l'oro delle politiche sociali, non col ferro delle armi. Liberare risorse con politiche di disarmo e convertirle sulla ricerca, sulla transizione ecologica, sull'energia compatibile, convertire produzioni e consumi con lavoro dignitoso, sistema fiscale omogeneo ed equo, retribuzione, redistribuzione del reddito. La questione salariale, per esempio, è una delle grandi questioni europee e la sinistra è tornata ad avere consenso popolare ed essere forza di governo, dove ha assunto con forza e determinazione l'aumento del salario minimo in Spagna, in Germania, in Portogallo. Questi temi possono essere, a nostro avviso, una base di riflessione per raccogliere la mission qui ed ora di una sinistra europea, dentro la quale connettere la sinistra italiana. Certamente su questo percorso politico verso le elezioni europee del 2024 un passaggio utile, non burocratico, potrà essere il leader per consentire l'opzione delle liste transnazionali, che potranno essere riconosciute e votate in più paesi membri dell'Unione Europea. Ma noi, nel nostro piccolo, vogliamo avanzare una proposta provocatoria, provocatoria nel senso letterale del termine, per provocare una reazione, di innescare una riflessione, potremmo dire un'istruttoria, da parte di tutti i soggetti della dispersa e polverizzata sinistra italiana, di far vivere nei simboli e nei contenuti il profilo unitario della sinistra europea già nella scadenza delle prossime elezioni politiche del 2023. Siamo consapevoli delle tante difficoltà, delle variabili tecnico-politiche da valutare, a partire dalla stessa legge elettorale, ma riteniamo che la suggestione valga un'istruttoria seria. Infine, e ho voluto scriverle queste poche cose per essere breve, per essere, anche se rischio, diciamo, lo schematismo, Infine, con questa assemblea intendiamo porre al partito, al suo presidente, Heinz Bierbaum, al suo vice, Paolo Ferrero, che questo comitato e questa realtà degli aderenti individuali abbia un suo riconoscimento, attraverso una struttura di coordinamento, che possa consentirci di partecipare a pieno titolo alla vita del partito, ai suoi gruppi di lavoro, ai percorsi di elaborazione di iniziative e campagne. Noi, nel nostro piccolo, svolgiamo già delle attività di servizio, fra l'altro insieme a Transform, come la traduzione in italiano della newsletter del partito, per renderla fruibile ad una platea più vasta di compagni e compagne. Poi, magari, su queste azioni, diciamo, parleranno anche altri compagni, altri interventi dopo di me. In fondo, indichiamo un obiettivo molto ambizioso di costruire un partito della sinistra europea di massa, un partito dei cittadini europei, non dei partiti nazionali, un obiettivo che potrà essere raggiunto non da noi, ma dal protagonismo di tutti, e per noi, per questo comitato, ci accontentiamo di molto poco, di molto meno, un segnale di buona volontà, un riconoscimento, dicevo, che va appunto nella giusta direzione. Io poi approfitto di questa occasione per consegnare anche simbolicamente al compagno Heinz, al presidente, il primo gruppo di adesioni che abbiamo raccolto dal mese di gennaio di quest'anno. Grazie. 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 Grazie.